Quanta risorse umane e la nuova scuola Quanta ICT danno avvio a corsi di formazione rivolti a chi vuole approfondire le proprie competenze in ambito ICT. Corsi in partenza a giugno, MySQL, CISO, Certified Information System Security Officer, Mobile Developer Base e Avanzato, SAP FICO e SAP MMSD. Vai sul sito quantaresorseumane.com per tutti i dettagli. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima edizione.